Il mondo della disabilità è un mondo da un punto di vista tecnologico sempre in continua evoluzione che richiede appunto degli ausili e dei componenti diversi da quelli che si utilizzano durante la vita quotidiana e sono comunque ausili che danno sempre delle prestazioni migliori a partire dai materiali utilizzati ora abbiamo utilizzato tantissimo quello che è il carbonio ma anche tutta la parte diciamo di stampe 3D o comunque cose che permettono di personalizzare sia da un punto di vista funzionale sia da un punto di vista estetico appunto questi componenti per le varie persone. È molto bello che lo sport nella disabilità sia comunque una cosa sempre in continuo aumento sempre con più partecipanti come dimostra questo evento tra l'altro devo dire noi partecipiamo a molti eventi, uno dei più numerosi diciamo come adesioni anche perché lo sport è comunque molto importante nelle persone normodotate come strumento di aggregazione lo diventa veramente molto di più nel mondo della disabilità perché oltre quella che è la competizione, l'agonismo che c'è sempre nello sport in questo caso serve proprio anche per far uscire le persone di casa. Ti faccio una domanda, una curiosità anche nell'arco degli ultimi diciamo 15 anni, 20 anni è cambiato tutto perché adesso i materiali e i brevetti che sembravano cose fantascientifiche appunto solo 15 anni fa sono più alla portata di tutti. Come ci fai una brevissima storia di come si è evoluta la tecnologia sulle protesi e su queste cose che aiutano a vivere meglio le persone che hanno dei problemi? Brevissima storia, la nostra azienda è un'azienda che produce strumenti per protesi e comunque per la disabilità fin dal 1916. Quindi abbiamo ripercorso anche poco tempo fa perché nel 2016 abbiamo festeggiato il centenario diciamo tutta quella che è stata la storia della nostra azienda e quindi di conseguenza anche della disabilità in generale. Pensare che io pur molto giovane diciamo 20 anni fa quando ho cominciato a entrare diciamo nel settore dell'ortopedia continuavamo sempre a fare delle protesi in legno. Attualmente parliamo di carbonio, parliamo di Kevlar, parliamo di materiali comunque molto leggeri con un rendimento diciamo molto migliore rispetto a quelli di prima. Di sicuro in questi ultimi anni l'attenzione è cresciuta molto, è cresciuta anche grazie diciamo a quei personaggi possiamo dire più famosi, senza fare nomi, facciamo nomi, lo Zanardi, la Bebevio, Andrea Lanfri, Emiliano Malagoli sono tutte persone che in questi anni qui hanno sensibilizzato molto le persone sul tema appunto della disabilità. Perché poi tanto sport comunque della disabilità è proprio bello da vedere, se pensate anche faccio l'esempio al basket in carrozzina giocata a livelli importanti, comunque è proprio bello. È stranamente agonistico. È stranamente agonistico e molto bello da vedere. C'è da capire in prospettiva se si andrà verso delle manifestazioni integrate, difficile da organizzare, però sarebbe anche bello che non ci fosse una distinzione così netta tra il mondo della disabilità e quello dei normodotati. Dovrebbe essere questo, anche perché la vera evoluzione sarebbe l'integrazione. No, è quello che ha le parole più importanti, autonomia per il disabile e integrazione. Noi siamo perfettamente d'accordo con te. Speriamo di riuscirci. Grazie.